Welcome back su Scenario Giochi Corsari terzo scenario della campagna Genesi Mutante sono super eccitato perché i primi due scenari mi sono piaciuti un sacco e... iniziamo subito a leggere, siamo contro Mastermold Scenario 3 Mastermold, anzi prima di iniziare a leggere, magari iscrivetevi al nostro canale, cliccate anche sulla campanellina così non vi perdete nessuno dei nostri scenari, dei nostri video, quindi storia, Scenario 3 Mastermold, grazie anche all'intervento e sorpresa di Magneto, le feroci sentinelli sono state distrutte il signore del magnetismo rivela agli eroi di aver scoperto la posizione segreta della fabbrica in cui vengono prodotti quei robot assassini, suggerisce agli X-Men di unire le forze per affrontare il nemico comune infuriati e ancora assorditi dall'ospettato attacco che ha colpito i loro fratelli e sorelle mutanti gli X-Men accettano di seguire Magneto fino alla fabbrica allora, eccolo qua Mastermold, lui trama ma ha una speciale che dice che quando Mastermold trama contro di te scarta carta dalla cima del mazzo degli incontri finché non arriscarti un gregario sentinella metti in gioco quel gregario impegnato con te non far ricevere carte potenziamento a Mastermold ha 12 punti ferita ed è robusto quindi 12 punti ferita robusto poi fabbrica di sentinelle ci dice come è formata e ci dice metti in gioco l'alleato Magneto, quindi noi inizieremo con Magneto in campo giriamo ogni gregario sentinello ottiene guardia ogni giocatore scarta carta dalla cima del mazzo degli incontri finché uno scarta un gregario sentinella e poi lo metti impegnato con lui questa è con la cosa con cui iniziamo quindi 1 ovviamente bisogna prima mescolare in preparazione ogni carta del mazzo futuro passato che abbiamo segnato che sono quindi macchinazioni di Bastion e portali di Nimrod quindi queste prima le mescoliamo questo è il resto del mazzo di futuro passato che mettiamo qui sopra quindi mescoliamo prima queste poi giriamo finché non scartiamo una sentinella la mettiamo in gioco quindi non fa la parte rivelata c'è anche bene quella che costa 2 che ha 2 ferite poi preparazione mescolare e l'abbiamo fatto se Jubilee era in gioco la mettiamo in gioco quindi abbiamo anche Jubilee iniziamo ogni aliato prigioniero annotato può essere mischiato nel mazzo del giocatore e lo faremo se il nemico del mio nemico è sconfitto ha finito con una X allora possiamo prendere un'altra miglioria del nostro set ovviamente qui dentro al mazzo ci sono già ancora le due carte quella autorità e quella miglioria giustizia che già c'erano presenti negli scorsi video quindi se ne avete perso andate a rivederli poi quindi fatto riveliamo casualmente una delle 3 rimaste questa operazione di salvataggio avete la tattica fino alla fine della fase quando un alleato sta per subire i danni conseguenti da un intervento previeni quei danni rimuove da gioco questa carta la campagna quindi intervento quando sta a subire danni per intervento la mettiamo qua operazione di salvataggio mettiamola di qua non mi piace no la mettiamo qua credo non me la ricordo rivela la trema secondaria a trovare i prigionieri e l'abbiamo qua e dice ogni giocatore cerca nel proprio mazzo un alleato lo colloca faccio in giusto sotto questa carta e quindi prendiamo un alleato lo mettiamo faccio in giusto con la carta cosa cerchiamo? prima abbiamo già messo degli alleati in più e li metteremo in campo rictor boom boom cannonball ci metto rictor dai voilà rictor qui sotto e ne ha tre per giocatore voilà ah ovviamente qua dice ogni gregario sentinello tiene guardia quindi finché non togliamo le sentinelle non possiamo attaccare il nostro cario master mold ok ma questo ci va bene è abbastanza è un po' bruttina come sentinelle quindi ci sta allora prima di tutto andiamo a nove ferite con remy continuiamo a mescolare giriamo e peschiamo pugno devastante armatura della loggia dura lezione forza angelo fascino creolo e basta quindi uno due tre queste quattro le teniamo scartiamo quelle due peschiamo non oggi per età del dolore e iniziamo subito allora la prima cosa da fare per me è sicuramente fascino creolo rimuovi tre minacce nella trama se farlo rimuovi l'ultima minaccia confondi un nemico le dovela qua confondiamo il nostro caro amico master mode che è stabile quindi non può essere confuso quando sconfitta mescola una carta al cima del mazzo nel futuro passato fatto e questa la mescoliamo e dice di girare ma mantenere queste girate diventa un ambiente missione dopo che sconfitta un gregario sentinella spendi una risorsa di qualsiasi tipo scegli un aliato a faccia in giù sotto questa carta e metti in gioco sotto il tuo controllo ok sarà fatto voilà mescolato magneto attacca la sentinella prendendo la conseguente ha sconfitto il segnale si cura di un danno abbiamo sconfitto la sentinella quindi spendiamo una risorsa qualsiasi spesa l'alleato entra in gioco rictor vabbè rictor fa un danno a mastermold che gli toglie robusto dopo che gli ha fatto danno fa un danno a mastermold e a ogni gregario ma uno basta poi una risorsa e giochiamo l'armatura quindi la teniamo lì possiamo farlo attaccare ma non ci interessa remi diventa gambit mettiamo qua un segnale lo carica attacca e porta a 9 mastermold teniamo non oggi e peschiamo fino ad arrivare a 5 boom boom pugno devastante x-geft e uomo ghiaccio ripristiniamo minaccia sulla trama principale mastermold attacca noi difendiamo ma si noi difendiamo e facciamo che difendiamo e possiamo fargli 4 danni no difendiamo 2 irrobustisci il criminale quindi non subiamo danni e ripristiniamo il criminale è robusto carta incontro per noi sentinella mac 3 robustezza cerca del mazzo nell'incontro e la piega degli scarti una barriera energetica segnala questa gregaria guardate un po' cosa c'è qua barriera energetica la segnala che viene la sentinella e robustiscilo quindi il robusto è già robusto dopo che il gregaria con questa aggiunta attaccato e robustiscilo ok quindi abbiamo un mac 3 robusto e tocca a noi allora rictor fa un danno a mastermold e toglie robusto poi fa un danno a tutti quindi toglie robusto da questo e porta mastermold a 8 magneto attacca la sentinella fa un danno conseguente ma ha sconfitto una sentinella e quindi si cura poi 1 2 3 e giochiamo l'xjet segnalina carica su gambit xjet viene esaurito per fare energia e due danni di jubilee e porta a 6 mastermold gambit attacca mastermold di 2 e lo porta a 4 tengo in mano boom boom e pesco fino ad arrivare a 5 professor x colosso armatura elettrostatica e agilità naturale ripristiniamo minaccia minaccia sulla trama principale e andiamo a 3 mastermold ci attacca gambit difende e utilizza agilità naturale segnalino e difendiamo per 6 2 e 3 5 bene abbiamo giocato bene ripristiniamo grazie all'armatura gambit carta incontro disegnato per eliminazione se non ci sono altri disegnato la segniamo alla nostra identità finché siamo impegnati con un gregario sentinella se sei nelle sembianze di eroe non puoi assumere la sembianza del trego allora prima ho sbagliato perché rictor doveva attaccare per forza la sentinella gli toglieva questo faceva un danno e quindi mastermold è a 5 perché hanno guardia le sentinelle quindi non poteva attaccare mastermold però abbiamo fixato il tutto ok allora prima cosa da fare rictor lo teniamo ancora giubili due danni e porta a tre magneto interviene di due qui sopra è stabile mastermold quindi non posso confondere niente quasi 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 faccio colosso ma si facciamo colosso entra con robusto e poi fa tre danni al nostro caro amico mastermold che va a zero dando a zero passa di stadio e dice robustezza stabile 14 punti ferita quindi quando trama lo fa quindi 14 punti ferita fa quello di prima quando trama ed è robusto a questo punto allora attiviamo anche rictor attacca toglie robusto e fa un danno a tutti e quindi porta a 13 il nostro caro amico mastermold non ci sono sentinelle che non hanno guardia altro segnalino carica su gambit che prima o poi utilizzeremo e anche lui decide di attaccare e portare mastermold a 11 peschiamo fino ad arrivare a 5 rog energia agilità naturale accelerazione e genialità un sacco di energia allora ripristiniamo minaccia sulla trama principale mastermold ci attacca gambit difende difende utilizzando agilità naturale segnalino e stiamo difendendo esattamente per 1 2 3 4 5 8 che non è male 8 ne fa 3 più 2 5 non viene subito danni grazie all'armatura ci ripristiniamo carta incontro per noi sentinella mark 5 quando rivelata sei disegnato per l'eliminazione assegnata alla tua identità ti attacca ok quindi questa ci attacca attacca d3 vogliamo difendere di nuovo ci attacca d3 e colosso difende e quindi va bene così è il nostro turno gratuitamente facciamo rogue perché costa 1 in meno per ogni gettone sull'identità e ha robusto e fino a qua ci siamo poi gambit attacca la sentinella che va a 3 magneto attacca la sentinella un danno conseguente sicura perché la sconfigge jubilee attivando la sua abilità fa 2 danni e porta 9 master mold a questo punto anche rogue attacca porta 7 e via robusto scarto 2 tengo solo accelerazione pesco fino ad arrivare a 5 bastone di gambit primo colpo carta caricata e imperturbabile ripristiniamo minaccia sulla tela principale master mold attacca 3 prendiamo più 1 4 prendiamo a 5 carta incontro per noi disegnato abbiamo sentinella c'è già una disegnata e quindi impulso scarto la miglioria a supporto che controlli scarteremo l'armatura tanto lui è a 7 è il nostro turno segnalino carica accelerazione ci da un altro segnalino carica carta caricata 1 2 3 gli scartiamo per fare 7 danni perforante distanza soprafazione e voilà master mold è stato sconfitto ancora forse più semplice delle sentinelle prima siamo stati secondo me molto fortunati spero anche qui di non aver sbagliato niente ma questo me lo farete sapere nei commenti e andiamo a vedere la risoluzione di questo scenario vittoria se la trama secondaria a trovare prigionieri è stata sconfitta segnare con X la casella corrispondente stata sconfitta rimuove dalla campagna ogni carta le 7 future passato che le direi vittoria tutto il resto viene invece segnato quindi qua cosa abbiamo di carta sentinelle future passato abbiamo sempre il solito portale di Nimrod abbiamo vediamo un po' tognazza 0 futuro passato abbiamo anche tecnologia delle nano sentinelle e l'altro che abbiamo è macchinazioni di bastio quindi queste qua sono le 3 carte che abbiamo di futuro passato poi rimuove dalla campagna ogni miglioria del set ruolo anche qua operazioni salvataggio non è che proprio l'abbiamo utilizzata se Giubilee è in gioco segnare una X la casella corrispondente della campagna e lei è in gioco eccola qui Giubilee annotare nel diario della campagna il nome di ogni carta alleato che alla fine del partito si trova sotto trovare i pigionieri nessuno basta finita questo scenario come sempre like commenti ci vediamo al prossimo ciao